Trasportavano 275 stecche di bionde rubate lungo l'autostrada del sole, ma sono stati scoperti e fermati dalla polizia stradale. Erano alle 8 del mattino quando gli agenti della sottosezione di battifolle in servizio di vigilanza autostradale si sono visti superare a forte velocità da due uomini a bordo di un Alfa Romeo Stelvio, direzione sud. È così nato un inseguimento e i poliziotti raggiunta l'auto hanno intimato l'alta al conducente che però, dopo aver rallentato, ha nuovamente accelerato per entrare infine con una brusca manovra all'interno dell'area di servizio di Montepulciano-Ovest. A questo punto gli uomini a bordo dell'auto hanno tentato la fuga a piedi in direzioni opposte. Uno è riuscito a dileguarsi mentre l'altro, dopo un breve inseguimento, è stato bloccato dai poliziotti. Sull'auto erano stipate ben 275 stecche di sigarette dei marchi più venduti, frutto anche di un colpo in una tabaccheria della provincia di Udine messo a segno nei giorni precedenti. Il giovane è bloccato, uno straniero di 20 anni senza fissa dimora in Italia e sprovvisto di permesso di soggiorno è stato sottoposto a fermo e condotto presso il carcere di Siena a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono attualmente in corso delle indagini finalizzate ad individuare la presenza delle altre sigarette rinvenute e l'identità del complice che è riuscito a fuggire.